Giorno dopo giorno prende forma la Russo Calcio 2016-2017. Il tecnico Antonello Musumeci insieme ai dirigenti biancazzurri stanno continuando le consultazioni per verificare chi tra i giocatori della passata stagione continuerà fattivamente a fare parte della famiglia della Russo. Antonello Musumeci ha già in mente un suo progetto preciso. Quest'anno dovrà essere l'anno del rilancio dell'attaccante Marius Dumitrascu. Il neo allenatore della prima squadra punta molto sull'attaccante Italo Romeno che l'anno scorso ha realizzato 10 reti in 12 partite. Una media gol altissima anche in prima categoria, seppur in poche apparizioni. Dumitrascu ha i mezzi tecnici straordinari e dovrebbe essere la marcia in più della Russo nella prossima stagione. Sull'altra corsia esterna offensiva, considerato che Musumeci gioca con il 4-3-3, si punta molto ancora su Marco Finocchiaro che però potrebbe andare fuori Sicilia per motivi di lavoro.